Ehi, ciao cari, come state? Questo è un video ASMR con il typing sound del controller. A me rilassa tantissimo questo suono. Ovviamente siete sempre i benvenuti in questo canale per potervi rilassare. Ehi, ciao. Ehi, ciao. Ehi, ciao. 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 E' un suono molto bizzarro, vero? E' un suono. 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 Rilassati Dunque, questo video ASMR si conclude qui, non dimenticare di supportare il mio canale, ma soprattutto ti auguro la buonanotte. Dunque, buonanotte, 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 buonanotte.